Ben trovati a questa nuova rassegna stampa di TG Plus per oggi 19 maggio, le pagine di Treviso, la provincia di Treviso con la tribuna di Treviso, Residence Loro del Sile, nuova meta immobiliare da Fiera a Silea fioriscono gli investimenti sulle rive del fiume con ristrutturazioni di pregio, tutti gli alloggi e quanto costano e a Caffoncello affitti brevi, è interessante. Poi vediamo nella fotonotizia sotto la protesta dei vigilantes, paghe da fame e molti rischi, questa è una cosa che va avanti da parecchi anni e piano piano poi se ne parlerà sempre di più. L'ex Nigi arriva un altro market, Visotto sbarca lungo il terraglio a Mogliano, ieri c'è stata la presentazione e l'inaugurazione, non l'inaugurazione, dei lavori diciamo così, hanno spiegato un po' quello che succederà in questa area alle porte della città. L'ultima sezione a Treviso regala un seggio in più a Conte e poi il motociclista contro un'auto infanato che è gravissimo, notizie di cronaca e grandi lavatrici ma basso consumo in Mesa fa ricerca, queste sono le notizie anche di tecnologia. Andiamo a vedere anche che cosa dice il gazzettino. Il gazzettino sfollati la nuova tragedia, sale a 13 il bilancio delle vittime, senza casa o luce migliaia di persone, danni per miliardi, l'Italia divisa in due, maxi code sulla uno, treni cancellati, 400 strade da ricostruire, il gazzettino riporta anche le notizie di carattere nazionale, malato di sedentarietà a mezzo milione di veneti, la campagna della regione per la salute, Venezia ha scippata sul vaporetto la ministra del Brasile, anche lei c'è cascata, cascata insomma, a Venezia è così, se non stai attento ti fregano portafogli, purtroppo succedono anche queste cose. Sul Corriere del Veneto invece c'è questa fotonotizia, basta affitti insostenibili, scrive il cartello, studentati entro tre anni pronti alti 1500 posti letto e la proposta, notizia di politica, sull'autonomia non è blindata, fratelli d'Italia sia la riforma ma modifiche dove serve e le crociere a largo, ma non nei festivi, si comincia a parlare di nuovo di grandi navi e di situazioni che ben conosciamo. Andiamo a vedere anche la pagina di treviso della nostra, insomma, di notizie plus, vedete che anche qui si parla delle elezioni, 77esima elezione scrutinata, esultati definitivi e tutti gli eletti, poi all'interno dell'articolo troverete che è stato così regalato, regalato insomma che si è beccato questo seggio in più conte, la carenza di personale, una notizia che viene dal Veneto, questa a Spresiano è carina, questa dei bambini a scuola di guida in sicurezza e se andiamo a vedere anche all'interno troveremo poi tutte le altre notizie, anche qui vedete l'ex Nigi via ai lavori di riqualificazione a Mogliano, la proposta è di accordo pubblico e privato, vedete la rigenerazione urbana, e anche qui insomma 3 milioni, più di 3 milioni e mezzo di euro che comprende la realizzazione della nuova caserma della Polizia Locale e nuova sede della Protezione Civile, ma altre notizie le trovate naturalmente poi nella pagina centrale e durante la giornata. Grazie per averci seguito, era questa l'edicola della provincia di Treviso. Grazie a tutti.